Ex attori che lavoravano con Merola, Ricciardi, capitato non si sa come in un determinato ruolo istituzionale. Fonte Imola oggi. Ricciardi, la variante Delta buca i vaccini. Vaccinare al più presto, si è incartato e impie la confusione mentale. La logica, la logica in chioda, caro Ricciardi. Se la variante Delta buca i vaccini, come dici tu? E visto che se la variante Delta è ormai prevalente, perché oggi ci si dovrebbe vaccinare con vaccini che sono necessariamente datati, superati dall'evoluzione del virus, che essendo un virus RNA muta, e lo sapevamo benissimo che mutava in continuazione, iscrivetevi al mio canale e mettete like se vi piacciono i contenuti che propongo e lo sforzo informativo che faccio. Grazie alla prossima videopidolina.